Un sacerdote ricco di umanità, forte nella preghiera, legato alla Madonna, umile. Sono tante le qualità che il Vescovo di Verona ricorda del compianto Monsignor Andrea Veggio. E questo l'ho fatto ancora nei primi tempi perché da quando è prete si è sentito prete fin nelle midolle del suo essere, sempre. E quindi ha dato la sua vita, ma volentieri, con il suo sorriso, poi a modo suo, si diceva a modo di veggio, ecco, anche qualche battuta era sua. Però, pensiamo a quando è stato curato, addosso buono, lo ricordano immagati ancora. Poi è stato vicerettore, padre spirituale in seminario, è stato parroco a Isola della Scala, è tornato per volontà di Giuseppe Carraro, venerabile, in seminario come rettore, è stato il nostro rettore. E devo dire, bisogna riconoscere, che è stato grazie al fatto che allora c'era come Vescovo di Verona Giuseppe Carraro, e come rettore del seminario Andrea Veggio, se il seminario di Verona si è salvato dalla grande bufera, tsunami, del 68. L'abbiamo vissuto. Anche il nostro seminario poteva essere distrutto. E ha resistito grazie al Vescovo e anche Andrea Veggio. Ecco, lui non ha mai amato di stare in prima fila e forse non aveva neanche le doti. Preferiva stare in seconda fila ed essere uno che eseguiva gli ordini, però con grande spirito, uno spirito straordinario. Come ricorda il pastore della Diocesi di Verona, tanti gli incarichi ricoperti da Monsignor Veggio. Impegni svolti con senso del dovere, con lungimiranza e grande spirito di servizio, fino alla fine. E quando, stando nella casa di riposo di Negraconi, prechi, diceva portatemi a casa anche con me, mi porti a casa. Ha fatto una fatica immensa a staccarsi. Era lui che aveva voluto quella casa di riposo. E quando è toccato a lui ha fatto fatica. Poi pian piano, pian piano, ci si è adattato. E poi vederlo seduto sulla sedia a rotelle per celebrare la messa in fianco e dare la benedizione appena appena accennata, però riusciva a darla anche ai preti che concelebravano. Una purificazione, credo, da crogiolo.